Con l'afflusso abbiamo sentito tra ieri e oggi si presume di 100.000 persone, poi giovedì l'arrivo anche di molte personalità, naturalmente ci sono misure di sicurezza rafforzate in tutta la capitale. Andiamo in diretta da Stefano Corradino. Sì Alessandro, ovviamente come dicevi le misure di sicurezza sono crescenti, sono imponenti perché abbiamo detto che sono decine di migliaia le persone che sono già arrivate. I fedeli potranno anche domani per 12 ore dalle 7 del mattino alle 19 di sera dare l'ultimo saluto al Papa Emerito e poi i funerali di giovedì alle 9.30 in piazza San Pietro. Quindi misure attente con il Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza che si è riunito anche questa mattina e stabilire gli ultimi dettagli, ricalcando un po' quella che è stata la sicurezza approntata per i grandi eventi e anche di fatto ricalcando i funerali di Papa Voitila di Giovanni Paolo II dell'aprile del 2005. Quindi misure imponenti, alcuni dettagli, sono più di mille gli agenti e i militari che saranno presenti, 500 e oltre volontari della protezione civile, poi presidi sanitari, ambulanze e postazioni del 118. Ci saranno tre varchi e metal detector per effettuare i controlli e ovviamente le misure di sicurezza più stringenti saranno proprio il giorno del funerale con la no-fly zone, l'interdizione nello spazio aereo non solo su piazza San Pietro e poi unità cinofile, antiterrorismo, tiratori scelti anche ovviamente per la presenza delle autorità civili e religiose che verranno da ogni parte del mondo a dare l'ultimo omaggio a Papa Ratzinger. Ovviamente la raccomandazione anche dal prefetto è stata quella di non utilizzare auto proprie o almeno quanto possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblici e per questo sono stati potenziati i mezzi metropolitane e autobus per consentire una circolazione più gestibile da parte delle persone che affluiranno a piazza San Pietro. E allora da qui per il momento la linea torna a te.